Veramente questa sera non abbiamo un grande momento epico della storia televisiva. Secondo me, per dirla proprio con Umberto Eco, poi si situa a cavallo tra l'edonismo reganiano e la condizione postmoderna. L'edonismo o l'edonismo? L'edonismo, l'edonismo reganiano e la condizione postmoderna. L'edonismo reganiano, ma che cosa diavolo? Quello lo spiegherò più tardi. Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita. Quando a quelli della notte il giornalista Roberto D'Agostino coniò l'espressione edonismo reganiano, probabilmente solo lui ne conosceva veramente il significato. Non arriverà mai a spiegarlo chiaramente, eppure quello che era nato come un simpatico scherzo diventerà una felice intuizione per sintetizzare lo spirito della metà di un decennio, quello degli anni Ottanta, che riempiva interi stadi al grido di Born in the USA e teneva sul comodino una copia dell'insostenibile leggerezza dell'essere di Milan Kundera, dal quale emergeva la nuova figura dell'uomo oggetto. D'Agostino coniava la sua frase esattamente un anno prima dell'uscita di un film olivuidiano che sarà l'incarnazione in cellulosa proprio di quell'edonismo reganiano, raccontando una storia di piloti d'élite pieni di testosterone, vestiti con giubbotti di pelle shot e occhiali da sole Ray-Ban, sempre pronti a spingersi al massimo pur di mettersi in mostra. Questa video recensione potrebbe terminare banalmente qui, se non stessimo parlando di un film che, oltre ad essere stato un campione di incassi, nonché uno dei blockbuster più iconici del cinema di Hollywood degli anni Ottanta, nel semplice racconto del percorso di maturazione del suo protagonista è stato lo specchio dei sogni, delle paure e soprattutto delle ambizioni dei giovani d'America di quel periodo. Visto in questa chiave, Top Gun potrebbe, forse, arrivare a meritare un ulteriore approfondimento, che è un po' l'intento di questa video recensione. La generale rivalutazione critica di Top Gun potrebbe essere apparentemente giustificata sia dalla nostalgia degli occhi moderni, che lo hanno trasformato in un cult, sia dal sequel del 2022 uscito a distanza di quasi 40 anni, ma che era in programmazione da tempo. In realtà questa rivalutazione era già avvenuta negli anni 2000, in corrispondenza dell'uscita della pellicola nei nuovi formati digitali per la visione domestica. La ricostruzione di questa giravolta è semplice, anche se va opportunamente pesata rispetto all'autorevolezza della fonte. Basta confrontare quest'ultime, esercizio che naturalmente faremo nei prossimi minuti. Volendo partire dalla letteratura di riferimento, il dizionario dei film Il Mereghetti assegna a Top Gun 2 stelle su 4. Il critico preferisce tenersi in un saggio bilico. Adrenalinico, testosteronico, propagandistico e guerrafondaio sono aggettivi che di solito messi insieme rappresentano il cinema di intrattenimento o di consumo, non certo quello d'autore. Nelle interviste del tempo Tom Cruise proverà da subito a distanziarsi dall'accusa di propaganda, per concentrare l'attenzione sulla storia dei piloti e non sugli aerei. A smentirlo non aiuteranno certo le riprese in volo, che sono effettivamente spettacolari. Ad aiutarlo un po' di più sarà invece la sua prova da protagonista. Col nome di Battaglia di Maverick, Tom Cruise è un pilota incosciente, sbruffone e perennemente influenzato dal fantasma del padre, scomparso in un'azione top secret. Il risultato è un personaggio particolarmente azzeccato, anche nel gioco di sensi di colpa e contrasti depressivi, che emergono nella seconda parte del film, conseguenza della dipartita del compagno amico Goose di Anthony Edwards, il Dr. Green della fortunata serie I.R. Il testa bene o il motte impari, riferito a Maverick per la sua impasse, forse è uscito dal pensiero di più di qualcuno. Nota di merito va soprattutto alla colonna sonora, una di quelle di maggior successo di sempre, trainata dal terzo Oscar a Giorgio Moroder per Take My Breath Away, premiata come miglior canzone. La colonna sonora è ascoltabile in qualità CD su QuoBuzz, nella doppia versione originale ed estesa con bonus track, quest'ultima a 24 bit ma incompleta. Nelle parole del Merighetti, nessuna menzione speciale, ed è giusto, per l'ex cameriera Kelly McGillis, che dopo l'intensa prova di Witness, in Top Gun le viene affidato un ruolo con dei dialoghi tremendi che non possono che penalizzarla. Dopo il successivo sottoaccusa, la McGillis resterà legata solo a ruoli minori. Grande successo di Botteghino anche nel nostro paese, esordirà al secondo posto in classifica delle visioni al cinema, la pellicola sarà sponsorizzata dal Dipartimento della Difesa statunitense che metterà a disposizione del film una porta aerei, una base navale e un'intera squadriglia di aerei supersonici. La sensazione di stare vedendo un lungo spot pubblicitario della marina statunitense è costante per tutto il film. Non a caso per la regia sarà scelto Tony Scott, fratello di Ridley, con passate esperienze come regista di spot televisivi. Milionaria produzione di Don Simpson e Jerry Brackheimer, Top Gun era per ciac del tempo, in estrema sintesi, una bella furbata, di cui non si sentiva particolare necessità. La visione infatti era sconsigliata a causa dei venti di guerra che lasciavano le scie dei jet. Oltre ad essere un bel bocconcino per gli incassi di Hollywood, Top Gun fu anche una bella campagna per la marina statunitense che ebbe in quei mesi il più elevato numero di reclute motivate dal film. E fa un po' specie che il seguito Top Gun Maverick sia uscito, ma è un puro caso, proprio nello stesso anno dell'invasione russa all'Ucraina. Come si diceva al tempo, Top Gun sarà anche un successo di cassetta. Asciugatosi negli anni il tanto sudore dei protagonisti e finito l'effetto della pozione ubriacante della retorica, l'unica guerra che veramente Maverick si ritrova a combattere è solo quella contro se stesso. E con quest'altra chiave di lettura, che poi era quella originale, a detta dei produttori, Top Gun si guadagna qualche altra stelletta. Per la precisione, 4 su 5, sia per la versione LaserDisc recensita su Cinema in Casa, sia per quella in DVD curata da AF Digitale. La rivista milanese è meno generosa per quanto riguarda il supporto DVD della prima edizione, datata anno 2000, la stessa che ho visionato io per queste note a commento del film. L'uso di un DVD 9 va a tutto vantaggio del livello di compressione, minima solo in alcune scene. Il riversamento da master ad alta definizione fa emergere la splendida fotografia di Jeffrey Kimball, con i cromatismi che variano dal rosso al giallo all'arancione. Solo a tratti il quadro si fa un po' troppo pastoso, ma i contorni sono nitidi e le immagini si staccano a sufficienza dal quadro di sfondo. A mio giudizio, uno dei migliori DVD dell'epoca. Purtroppo l'audio, solo surround per la nostra traccia, non regge il confronto con quella multicanale inglese, ma nonostante effetti di panning sul retro solo monofonici, si vive comunque una certa emozione nella visione, soprattutto nelle scene di inseguimento degli aerei. Provate anche a sentire con gli occhi chiusi l'acqua sullo sfondo del canale sinistro nella scena della doccia al minuto 57. Non penserete che state guardando un DVD. Per completezza di recensione, sperando di trovarla in usato, certo non la compro nuova, anche la versione in Blu-ray veniva rivalutata dalla rivista Alta Definizione, conquistandosi il voto overall 8 su 10. Molti i contenuti speciali inclusi nel nuovo formato HD. Per dovere di cronaca, vent'anni dopo la prima recensione negativa, il Maverick di Top Gun finirà tra i magnifici cento per la rivista Chuck. Della serie, citando ancora quelli della notte, non lo capisco, ma mi adeguo. E ho capito, pure io. Se questa video recensione vi è piaciuta, come di consueto potete farmelo sapere con un commento, un like o anche iscrivendovi al canale, attivando la campanellina per ricevere notifica di pubblicazione delle nuove video recensioni. Per questa è tutto, ciao e grazie da Federico di Seconda Vita. Ma noi saremo sempre i più più a parti!